Buonasera tesoroci miei splendidissimi, come state? Io bene diciamo, cioè dovrei essere piena di energia in questo periodo che sto facendola disoccupata, ma invece sono distrutta, cioè sono veramente senza forze, intanto mi strucco. Non sono già tornata con video eccetera eccetera, tranne quello delle palette che ho usato da, può essere periodo luglio-ottobre mi pare, perché ho i bimbi a casa, quindi mi è praticamente impossible chiudermi e girare dei video, perché ci sono sempre loro, quindi è un po' impossibile. Lunedì riprendono la scuola, quindi vediamo di darci un po' da fare. Anche perché ho da farvi poi il mese di... aspettate, allora oggi ho segnato le palette del mese di dicembre, che è solo un mese, quindi dicembre. Mi sembra che vi ho fatto luglio, agosto, settembre, ottobre forse. E poi vi ho fatto solo novembre, può essere solo novembre e poi solo dicembre? Sto andando in crisi, comunque altri due video sono sicura da girarvi e dicembre era da solo, a me sembra, però... Forse sto dicendo una cacchiata? Non lo so, vabbè. Comunque ho anche deciso di riprendere a fare... A fare il giro dei brand, tipo adesso nel mese di gennaio ho messo... Che ho messo? Ho messo Urban Decay? Infatti, vabbè, non mi sono già struccata. La palette marcia che ho usato oggi è la Vice, la XX Vice R... 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 Ora mai riconosco i passi. Comunque, vi dicevo la Vice LTD Reload, Reload, come si chiama, perché l'ho messa in vendita tante volte. Sono arrivata su Vinted a svenderla, praticamente l'ho messa a 15 euro. Anche 15 euro non se l'è cagata nessuno. E quindi ho detto, boh, col cacchio, già 15 euro mi pare regalarla, però vabbè, vedendo che comunque è vecchia, ma era praticamente intonsa. Quindi ho detto, sotto i 15 euro non ci vado, quindi amen me la tengo. Che poi vi dirò pure di più. Mi hanno bloccato il profilo su Vinted fino al 20 gennaio. Infatti, se mi avete contattato, che non riesco a vedere perché mi hanno bloccato, perché ho messo in vendita per l'ennesima volta la palette di tarte, quella piccolina che ho usato una volta. Che è praticamente su 3, 6, 9 cialte, sono 9 o 4, 8, 12, non mi ricordo. Quella sulle colorazioni fredde o neutre, non mi ricordo. Comunque, su quelle ne avevo usate 3, usate una volta. Comunque, mi hanno bloccato il canale perché era una palette usata. Sapete già quello che penso, eh? Io comunque continuerò in perterrita, se mi cancellano il profilo, chi se ne frega, ne farò poi un altro, o amen, dipenderò poi in un altro modo. Chi stavo dice, vabbè, oggi ho usato questa palette così, tanto per... Mi è venuta oggi sta cosa di ritornare. Intanto uso, oplà, sto struccante qua, sto gel della Clinias. E' ritornato l'azione. Mia mamma se l'ha comprato, me l'ha comprato una anche per Natale, mi ha preso il cofanetto, crema, questa, un'altra roba. Vabbè, è il momento di andare tutti in bagno. Comunque, vabbè, sto usando quello là che mi ha regalato mia mamma, eccetera, eccetera. Non mi ricordo. E, boh. Io me lo metto un po' sulla mano. Un po', bagno l'altro, un po' il pastrello. Lo giro e me lo metto così. E' uno struccante, detergente. Chiamatelo come volete. Spettacolare, a me piace un botto. Non mi pare che costi più di tanto, perché io ho visto la crema viso. Forse costa 3,49 euro. Mi sembra, da sola. A meno che non l'avevo trovata scontata, non lo ricordo. Comunque non è un prezzo eccessibile. Quindi, chissà, il lavoro lo fa. Mi piace tanto sia la crema che questo detergente. Non ho provato altri prodotti, eh, del brand. Quindi non ne ho idea. Ma questo strucca davvero benissimo. Quello che mi manca, che ho terminato, che non ho più comprato, è il tonico. Perché non sono più riuscita a trovarlo. Cioè, non è che non sono più riuscita a trovarlo. È che non ne andava di fare un ordine solo per comprare il tonico. E poi ho detto, con tutte le cose che ho, figurati se non ho fatto la scorta anche dei tonici. Però non ho ancora avuto tempo e voglia di cercarlo. Ho guardato molto così alla veloce. Cos'altro vi volevo dire? Ah, che il mio intento non era quello di iniziare gennaio facendo sta cosa dei brand. Però ho deciso di farlo perché ho detto, vabbè, siccome io adesso sono a casa tutti i giorni, finisco di usare poi tantissime palette al mese. Quindi è meglio che mi concentro sui brand e così uso meno palette, perché magari le uso più volte. E così le sfrutto anche di più, eccetera, eccetera, principalmente per quello. Vabbè, non ho altro da dirvi, sinceramente. Se non che, sono già scazzata che non mi è arrivato l'assegno unico di dicembre. So che a molti di voi non è arrivato, a molte sì. Ho contattato non so quante volte l'Inps inutili, come sempre. Quindi, boh, vedremo. Continuo a dire, arriverà breve, arriverà breve, arriverà breve. Cavola, a me arrivava sempre entro il 17 del mese, infatti non l'ho stato pagamenti. Io ho l'ultimo del 17 novembre. Siamo a gennaio, non mi è arrivata ancora un figo secco. Ma va bene così. Niente, ciao. La prossima settimana cercherò di equilibri... Niente, di sistemarmi un po' con i videoci. Ah, ovviamente, mi sono sciacquata. E per togliermi il gel, mi sono dimenticata di farvelo vedere. Niente, mi sono appena sciacquata.